ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video dopo aver ascoltato la mia nuova sigla la mia nuova sigla inquietante oggi faremo una recensione e apriremo il mio nuovo telefono il samsung galaxy acer allora così va molto meglio allora incredibile stiamo per aprire il galaxy acer ora vedremo dalla scatola che cosa esce già l'ho aperto ma ora l'ho riconfezionato ovviamente il telefono che si ce l'avete dovreste guardare quanto è bello ecco e questa è la quadrina di plastica inoltre ci hanno dato la pellicola poi gli auricolari e potremmo anche cambiare fodero potremmo anche cambiare fodero con questo bianco ebbene questo era tutto quello che avevo allora vogliamo partire con la recensione va bene ci divertiamo un po' prendiamo il tasto centrale il telefono si accende scuotiamo il dito per aprire la pagina vabbè fine qui ci siamo non è tanto di complicato non è molto complicato qua sta noi come potete vedere tutte le applicazioni qua sta google se uno ci vuole cliccare sopra ci entra ma già sta un sito appropriato che adesso andremo a scoprire ma no perché ci sono andato e ovviamente sia chiaro perché tramite la registrazione vocale l'ho detto e l'hanno fatto infatti anche prima con un carla era uscito sto patto ora se voglio scrivere qualcosa ora per esempio voglio scrivere youtube va lo scrivo e che rumore che fa ecco youtube siamo nella home page di youtube adesso questo sono tutti i video categoria del giorno e io posso anche caricare i video e già da qui lo spedisco su youtube molto semplice no aspettate ecco qui bene ragazzi ha una visione molto bella quello che posso dedurre a me di così sicuro se casomeno mi vedete mi vedete qui molto comodo però sto telefono poi c'ho delle canzoni e guardate qui come sono belle un audio altissimo e guardate durante l'audio che spondo mi lascia meglio di così sicuro va bene ragazzi il video vi dice qui ci vediamo ciao a tutti ah fatemi gli auguri perché tra 2 ore e mezzanotte sarei 9 anzi meno di 2 ore e compio 12 anni non sono nato a mezzanotte ciao ragazzi e questo è anche un premio per i miei 66 iscritti neanche un mese fa erano 50 quindi per cortesia questo lo dedico a voi ciao 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 ciao